Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! La notte tra domenica 30 giugno e lunedì Pumo Luglio, intorno alle 2.30 del mattino, la casa romana di Caterina Balivo e Guido Maria Brera è stata teatro di un furto di migliaia di euro. I ladri sono riusciti ad entrare nell'appartamento, situato nei prestigiosi parioli, al quarto piano di un grande palazzo, approfittando dell'assenza della conduttrice in vacanza a Barcellona. Secondo quanto emerso dalla ricostruzione degli agenti del commissariato Villa Glory, i malviventi sono entrati attraverso il balcone e una volta all'interno hanno bloccato la porta d'ingresso. Hanno rubato borse, Rolex e gioielli di valore, lasciando la casa in disordine prima di fuggire. Il bottino del furto è ancora da quantificare, ma si tratta di oggetti di grande valore che hanno causato un danno economico significativo ai proprietari. Caterina Balivo e Guido Maria Brera sono stati vittime di un'azione criminale che ha destato preoccupazione e sgomento nell'intera comunità. Le indagini sono in corso per risalire ai responsabili di questo vile gesto e portarli alla giustizia. Nel frattempo la coppia ha dovuto fare i conti con il trauma e il disagio causati dall'invasione della propria privacy e dal furto subito?